Sì, non c'è questa direzione, da poco ci andiamo. Sto a venire piccando, prima che noi ci arriveremo a questa divestia, sopra Varenna. Io vi ho vieti in. Grazie. Grazie. Tutto giorno ci stiamo avvicinando. Grazie. 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 Venti minuti, mezz'ora. Il tico viene il grotto del XVI secolo. Grazie. 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 Vediamoci la mia regina. Vediamo se facciamo però di qualcosa salendo. Vediamo. 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 i posti di domani. Perché. vediamo dopo il suo lavoro. Vediamo. 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 incontri amici. Bisogna usare le cinture di castitra. Buiana, buiana feruginosa. Cos'è finita la mia visita al castello? No, mi credo che per tre euro se niente per la pena. Questa volta sono venuto da Varenna, la prossima villa di Varenna, luogo di congresso intenzionale di fisica che ho visto anche il nostro Fermi. Adesso mi apprezzo questa. Questa è una questione diversa. Questa è una questione diversa. Questa è una questione diversa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.